Sicuramente oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che io ritengo forte, infatti quando ho fatto i cambi offensivi ci ha messo in difficoltà perché ha qualità davanti, però siamo stati veramente bravi oggi, farei veramente complimenti a tutti perché abbiamo avuto un atteggiamento perfetto, perché siamo stati bravissimi nei contrasti, siamo stati più aggressivi di loro, avevo un po' paura della loro aggressività a metà campo, invece devo dire che in tutti i ruoli siamo stati veramente efficaci, abbiamo sbagliato un po' troppo i gol perché la parità si poteva compromettere, siamo stati ancora più bravi sull'uno a uno a non farci demoralizzare dal gol preso, ma a reagire e andare a fare un altro gol, quindi devo dire veramente che oggi sono veramente soddisfatto, probabilmente è la miglior partita da inizio anno. Sì, assolutamente, abbiamo interpretato benissimo la partita, le cose che abbiamo provato in settimana con il mio staff, devo dire che sono andate tutte molto bene, sapevamo che poteva soffrire sui cambi di gioco in questo modulo e abbiamo fatto molto bene, ha fatto un Eurogoal Renault, sono contento, quindi ha fatto un gol e assist e quindi oggi è stata una bella giornata per lui e abbiamo subito un Eurogoal che probabilmente non voleva neanche calciare, però nel calcio ci stanno anche queste cose, è un attaccante forte, si vede che di un'altra categoria, però gli abbiamo concesso proprio il limite indispensabile, quindi devo dire che siamo stati molto bravi, soprattutto in difesa, voglio fare un applauso alla difesa perché è sempre accorciato, perché è sempre stata corta, è una cosa che abbiamo provato tanto in settimana e devo dire che oggi l'hanno fatta veramente bene. Sicuramente oggi l'abbiamo utilizzato da prima punta, lui può fare anche la seconda, quindi è un giocatore con caratteristiche diverse, è stato bravo, si è immerso bene con la nostra mentalità e devo dire che si è approcciato bene al lavoro e si vedono risultati in campo perché ha fatto un buon ingresso, si è reso utile, può essere ancora un pochino più efficace nel fare le cose, ma comunque lavora con noi da pochi giorni, quindi abbiamo tempo per lavorare, perché da martedì si ritorna in campo e si ritorna a picchiare ancora giù duro perché non abbiamo fatto ancora niente. Sicuramente contentissimo soprattutto per la vittoria perché stiamo facendo tanti risultati utili di fila e si vedono i risultati del lavoro che stiamo portando avanti dall'inizio di quest'anno solare e sono contentissimo per la squadra e anche per me stesso che ho dato una mano a portare a casa questi tre punti. Si riparte sicuramente con un po' di fiducia perché comunque siamo in un periodo, siamo in fiducia quindi stiamo bene, solo che non dobbiamo abbassare un po' la guardia, dobbiamo continuare a lavorare sempre di più ogni settimana e ci aspetta una partita molto importante, molto difficile e dobbiamo arrivare pronti per la partita di sabato. Questo è dedicato, sicuramente mio fratello mi ha portato fortuna, vorrei dedicato sempre alla nonna e a un'altra persona speciale a chi è dedicato.